It Alert è un nuovo sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione che dirama i telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica, messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. Il sistema è stato presentato presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile a Roma dal Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci con il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Un appuntamento per presentare alla stampa un sistema di allarme pubblico di carattere nazionale finalizzato a comunicare alle popolazioni di un determinato territorio una grave emergenza che può essere già in corso o imminente. Si tratta di un sistema ancora non operativo, proprio per il suo forte impatto che può avere e che avrà sicuramente sul territorio. Non sappiamo quanti altri paesi dell'Unione Europea siano dotati di un analogo sistema. Sui numeri non ci facciamo molte illusioni. ma certamente l'Italia sta procedendo con grande cautela proprio perché il sistema è particolarmente articolato va gestito con grande sobrietà e diventa operativo solo quando abbiamo superato tutte le criticità che finora abbiamo registrato nella precedente fase di sperimentazione. Nei prossimi giorni noi iniziamo appunto con quelli che per noi sono dei test tecnologici quindi proprio il test dell'infrastruttura parte il messaggio, il messaggio arriva questo è il test che noi abbiamo iniziato a ragionare con le regioni come avete visto in altri paesi si stanno facendo percorsi analoghi in Gran Bretagna qualche settimana fa hanno fatto una scelta di fare un'unica comunicazione nazionale noi abbiamo pensato di fare più test perché vogliamo movimentare il sistema più volte fare ancora più esperienze e quindi lo faremo regione per regione qua avete l'elenco alle mie spalle delle regioni che per prime hanno aderito ma tutte le regioni nei prossimi mesi saranno soggette a questi test quindi il 28 giugno inizieremo con la Toscana il 30 giugno con la Sardegna 5 luglio Sicilia, 7 luglio Calabria e poi chiuderemo il 10 luglio con l'Emilia Romagna chiuderemo questi primi 5 test tecnologici noi intorno alle ore 12 non è come alle 12 spaccate intorno alle ore 12 manderemo un messaggio condiviso con le singole regioni nelle date che avete visto e andremo a testare il messaggio sui portatili delle persone che saranno presenti nelle singole aree regionali quindi chiederemo ai cittadini che ricevono il test e qua vi invitiamo veramente a darci una mano su questo perché questi sistemi saranno sempre più importanti se noi avremo i ritorni da parte dei cittadini il sistema Cell Broadcast che è quello che abbiamo scelto così come molti altri paesi non consente il ritorno del messaggio all'operatore noi sappiamo quanti cellulari sono agganciati ma non sappiamo se il cellulare di Fabrizio Curcio in quel momento riceverà il messaggio perché la tecnologia è in una sorta di forma unidirezionale quindi noi abbiamo bisogno del ritorno dei nostri cittadini abbiamo immaginato un questionario che è anche sul nostro sito e vi invitiamo a prenderne visione perché più questionari noi avremo compilati in questi test ed è per questo che ne faremo tanti per ogni regione più noi avremo la possibilità di migliorare il sistema che ha necessità ovviamente di essere migliorato come ha già detto il Ministro noi siamo partiti su una scala un po' più ristretta che era l'esercitazione che abbiamo fatto ad aprile a Vulcano siamo andati su una scala un po' più ampia allo stretto di Messina andando a interessare circa 500.000 persone adesso andiamo regione per regione quindi andremo a interessare ovviamente milioni di persone gli operatori fisici che detengono le antenne sono i quattro che ha citato il Ministro ma in realtà il messaggio verrà ricevuto da tutti gli operatori quindi anche quelli che non sono fisici che si appoggiano alle antenne degli operatori che hanno come dire la proprietà dell'antenna quindi ovviamente noi siamo molto confidenti sulla restituzione che i cittadini ci faranno di questa sperimentazione i sei casi che sono previsti sostanzialmente a regime quindi quando termineremo il periodo di test sono collegati al maremoto al collasso di diga una grande diga attività vulcanica per il Vesuvio e Flegrei vulcano e Stromboli per gli incidenti nucleari e emergenze radiologiche per gli incidenti rilevanti in stabilimenti industriali e per le precipitazioni intense delle tendenze di questo ql